Salve bellissimi, io sono il vostro Grax, bentornati su Brostars, già ve lo dico questi qua sono video reaction, tra l'altro clamorosi a cose interessantissime, vi consiglio di seguire tutto quanto il video, che sto pre-registrando in vista di alcune giornate magari delicate dove non posso andare a registrare e quindi comunque il video esce. Solo per questo io vi chiedo di lasciare un pollice in almeno 10.000 like, non faccio spoiler, ma comunque vi consiglio di seguirmi su Instagram per rimanere aggiornati su tutto, Instagram lo trovate qua sotto, iscrivetevi e campanella se volete altre reaction anche perché ho scoperto questo canale che si chiama Yellow Clips Brostars, clamoroso, lo trovate in descrizione. Praticamente fa tipo delle compilation, questo qua è un video che riassume tutte quante le schermate di caricamento dal giorno zero di Brostars ai giorni d'oggi, faremo un viaggio nel tempo, torneremo ai Filz del 2019 con le musichette, non sto nella pelle, seguite il video, facciamoci questa macchina del tempo. Ovviamente iscrizione e campanella e codice Grax ovunque, let's go! Supercell Store lo sapete no? Beta 2017, com'era? Allora, abbasso un attimo l'audio, vabbè, questo me lo ricordo perché l'avevo scaricato, il mio account è del 2017 e così si dovrebbe sentire bene. Ok. Carina, carina. Ah, tra l'altro, attenzione, subito dettaglio incredibile, gioco verticale, sembrava Clash Royale. Beta 2017. Questa non me la ricordavo. Ok. Landscape. E si cambia. Global 2018. Cosa? Oddio, regà, non me la ricordo per niente. Ma questo era proprio l'inizio di tutto con Nita e Pochie in 3D. Brostars la carica sotto. Ne è passato di tempo, eh. Ok, di default 2018-19. Un anno intero? Questa me la ricordo molto bene. C'ho pure il quadro qui nelle scale. No, vabbè, i pirati. Primo evento natalizio con tema pirati del 2019 perché nel 2018 ci furono le skin, quelle lì, da Namaic, Penny e Nita, Rudolf. Stesso audio coi pirati. Tra l'altro sono tornati da poco. È tutto ciclico, ragazzi. Che ricordi, mamma. Mi giuro, regà. Cioè, brividi incredibili. E pensare quello che stiamo passando in questi giorni. Mamma mia, regà. È tutto documentato sul canale. Oh, la sì, sono quella lì, Lunare, con l'8-bit virus, Tara Ninja Urbana e BB, quella insomma arcade. Food Brawl per il PSG, giusto? Ma con la musichetta diversa. La Challenge con Shelly PSG. Ah, che tra l'altro fermi. In quella schermata, 4-19 che stava a segnalare, a spoilerare il Brawl Talk. Il 19 aprile, mi sembra. Tara Bazzarra. Mamma mia, se mi ricordo questa schermata. Ve l'ho detto, regà, i filz. Ma calmi che andremo avanti e vedremo anche alcune schermate di caricamento che magari Crax non ha visto, dato che poi ci siamo un po' fermati. Esattamente da maggio 2020. Il Bazzar di Tara, con la live da 37.000. Nell'attesa di questo pass, quello di Gelindo. Primo cromatico. Poi, sempre Dieci Anni dei Supercell. Questo qua stava per la tortina dei Dieci Anni e misero la skin quella di Bull King, se non ricordo male. Una volta finito il pass di Gelindo, stagione The Surge. Ma, con le finali mondiali del 2020 in Corea. Questo era il terzo passo, quello di Gotolet, Trixie Gotolet. Bellissima. Lo Star Park, eccetera. Lu! Ma le musichette! Fermi un attimo. Raga, qui mi ritorno nel filz della ladder, spostata da 14 giorni a 28 giorni. I bushi notturni, io ancora lavoravo. Credibile. Ma questa è quella vera! Quindi sotto il Broly Days misero proprio la musichetta, è vero! Doppia musichetta, perché la prima andava da novembre a dicembre, dato che i pass erano sempre dei due mesi. Mentre la seconda era da dicembre a gennaio per i Broly Days. Sotto Natale, regà, sta musica a palla. Io lo so che sto toccando le note dei vostri ricordi e ricollegare magari questi momenti. Mamma mia, le teorie sul ringhio. Il Sergente Cane con il minigioco di 8-bit. Ma, regà! Queste musiche sicuramente sto rispolverando dei vostri ricordi che vengono associati a queste musiche, magari ricordi super positivi. Video incredibile questo. Ok, dopo ringhio. Bella. Pure questo gli abbiamo dato sotto come pass, con tutte quante le skin al far west. Buzz. E lo giocavamo ancora qui, Broly, eh? Poi c'è stato quello di Ash, fatto pure Ash. Sì, eccolo lì con le skin Shelly, mi piaceva un sacco con Ranocchio. Brolo Win. Fatto pure questo, quello stu senza testa. Il Conte P, ok. E poi abbiamo il Brolywood. Ah, Lola! Lola! Più lo squick a chiappa fantasmi. Ok, il Surge Kong. Natale del 2021, qui il tronchetto, The Spike. L'hanno scioppato, è pure il Frank, quello lì con l'albero di Natale. C'è stava Jackie e anche la slitta Griff. Bello. Con il ritorno delle ultime schiene al Danamike, non lo so, eh. Fang. Bello, ragazzi. Mamma mia, l'Edgar. Il bombardino bellissimo. Bellissima la musica. Poi abbiamo... Eve! Ecco qui, regà, tra Fang e Eve. Mi sembra che Fang è stato l'ultimo che ho preso. Eve poi dopo mi so affermato. Perché ho iniziato a scalare del brutto sul Royale, con i campioni, eccetera, martellavamo. Ma comunque Crax stava sempre con l'orecchio, regà, ben teso. Ascoltavamo gli aggiornamenti di Brawl. Ci siamo sempre stati, ne abbiamo sempre parlato. Lo stecca pure quello lì, libellula. Qui siamo. Jeanette. Ma Jeanette e Bonnie. Io mi ricordo che comunque li avevo un po' giocati. Non lo so. No. Dopo li ho sblocchi. Qualcosa c'avevo comunque. Quello di Odis. Con bella corallina. Robofactory. Ok, Sam. Figo. Brawlowin 2022. E qui stavamo in alto mare, Crax. Mi sa che era prima de gas. Possibile. Leonnino coi bottoni fantasmi. Esatto. Novembre e dicembre. Quello era prima de gas. Gas Buster. Grom. Bellissimo. E colette controllore. Dark. Uh, è vero. Il Natale è quello malvagio. Bello. Sam Yeti. Musichetta. La voglio riascoltare, regà. Perché l'ho fermato. Per vedere un attimo che c'era. Ancestrale. Bello. Una scelella sotto. Candyland. Tan tan tan. Questa l'abbiamo riascoltata pure da poco. Mandy Candy. Bellissimo. Mystery in the hub. Gray. Maa. Senti il jingle finale. Rumble Jungle. MESI. Con Meg. Jaguaro. L'Olimpo. Fermi prima di tutto. Un saluto all'Olimpo. Ci tengo a ringraziarli che sono i top nel mondo. Grax entrerà all'Olimpo. Ciao Blur. Ciao Manuxo. Ciao Marza. Arriverò. Ah, Iris Ares. Belle le schine dell'Olimpo. Enchanted Woods. Bella. Cordelius. Guardalo il lute pietra. L'8 bit casetta. Pirati. Quelli maledetti. No? No, mi sono sbagliato ragazzi. Sì, sì, sì. Pirati maledetti. Certo. C'è stata De Mezzosurge. C'è stata Bibi. Che non è leggendare, vi ricordo. Bellissima la musichetta. Pubblicità. Perlito. Che music. C'è proprio Entringame. Brul Academy? Fico Coemz. Con le skin quelle lì cheerleader. Anche lo Stu. Ok. Questo di nuovo l'hanno messo? Possibile? L'avevano riciclata la schermata? Oppure se sono sbagliati? L'ha presentata? Ah sì, vedi? L'hanno rimessa pure nel 2023. Ok. Quello abbiamo visto prima. Non so se è un errore del video. Circo. Bizzarro. Mamma mia, pure qui ragazzi. Alcune skin clamorose. Devo prendere quella lì di Nita. The Warrior Journey? Ivanara. Con i due boh. Il Frank. Bello pure questo di tema. War Finals. Vabbè, qui arriveranno credo una carrellata di schermate. Queste per il 2023 dell'anno scorso. In Svezia. Mi sembra. Lolita. Carina. Queste non me le ricordo ragazzi. Eh, perché è quel momento lì insomma. True Days. Oh, questa è recente. Mico contro Stu e la skin gratis. Quella di Colt. E poi dopo Kitta. Giusto? Musichetta a Gogo. Me le ricordo ragazzi. Qui siamo tornati. Il Dragone. Mico. Mico con le skin, eccetera. Bello quello di Kitta. Swamp of Love. Uh, mi ricordo pure questo con Giulietto. Queste sono recenti raga. Sono quelle di quest'anno. Le ha messe tutte giustamente. Cioè adesso proprio te ne stanno a droppare una marea. Ok, abbiamo visto pure questo. Con Chuck lo Scorpione. Melody. Cioè io già mi aspetto ragazzi di Rivede Godzilla. Melody. Best sa. Baby Shark. Ah, giusto il Comirite God. Ah, la tua volta dal video. Comunque Melody Best. Song della home di sempre. Se la gioco un Mandy Candy è ma Melody raga. Ragnarok. Thor Bibi. Eccolo. Bella musichetta. Grande anche il Chester. Mecha. Giusto. Pure i Mecha a ritorno. Cioè adesso con i pass ogni mese praticamente il 30% del video sono quelle di quest'anno. Prima cambiavano veramente raramente. Lily. Bella. E abbiamo ringraziato poi per la rimozione di Baby Shark. E qui. Che ansia raga. E mo' arriverà quella dei SpongeBob. Drago. Bella pure. Altro copyright Dragon Force. Cyber Brawl. Fang. E Bea. Carina. Quelle vecchie raga forse. Mandy Candy. Grande quel Barry. Bello Barry. Uh ritorna l'Olimpo contro i mostri. Minotauro. Tutte belle queste skin. Jurassic Brawl. Di quest'estate. Ah ok con il ritorno giustamente al vecchio Brostar. Clancy. Vabbè ci abbiamo giocato a Brawl quest'anno no? Queste le conosciamo bene per in Brawl. Quante le hanno fatte oh! Ok la stessa audio con il cambio. Per le skin con Sandy eccetera. Pirati di nuovo. Questo qua fino agosto. Mo. Eccoci. Musica ancestrale con Mo. Bella questa. E poi SpongeBob. Ah la sponerata. Fermi tutti. Come fa ad averle quelle dopo? Ha già le schermate di caricamento. Scary Tales. Bello. Ma questi sono spoiler incredibili. Ad ottobre. Mamma mia ragazzi. Che viaggio. Che spettacolo. C'è stavano quelle per i dieci anni. C'è stava un sacco di roba. È passato di tempo. Ma siamo ancora qua. E ripeto. Questi qua sono video molto speciali. Poi capirete. Se vi ho fatto tornare un po' nel passato. Effetto nostalgico. Vi chiedo un pollicione. Iscrivetevi al campanella. Codice Craxo ovunque. E vi mando un grande abbraccio. E un grande bacio. Ci becchiamo su Instagram. Per maggiori informazioni e aggiornamenti. Ciao. Belli. Ciao. Ciao.